La giunta provinciale ridotta ad otto membri, compreso il presidente, doveva essere il modo giusto per concentrare i poteri su meno persone e sveltire il sistema. A quasi un anno dall'insediamento dell'esecutivo guidato da Arno Compaccia, appare invece che questa non sia stata la soluzione migliore, a detta dei sindacati e del presidente di CNA Claudio Corrarati. E il perché è presto spiegato. Oggi prendere un appuntamento con un assessore è un bel impegno, nel senso che passano settimane e forse anche mesi prima di trovare una data dove si può incontrare l'assessore di riferimento. Questo può essere un grosso problema, probabilmente il fatto di essere operati da tanti impegni concentrati su pochi assessori portano ad avere agli stessi un'agenda molto piena e carica. E' chiaro che questo però anche noi facciamo fatica ad accettarlo perché spesse volte sarebbe bene avere un appuntamento in tempi abbastanza immediati per riuscire ad approfondire problemi che di tempi non hanno più la possibilità di aspettarne. Dello stesso avviso il segretario provinciale della UIL, Tony Serafini. Ritengo che in una provincia come questa, con le competenze che ha, con i problemi di questa crisi che ormai è i sei anni che la stiamo vivendo, una giunta corta addossando a pochi assessori responsabilità di queste dimensioni è stato sbagliato. Lo dissi già all'inizio, ritengo che aver accumulato tutte le competenze dell'economia eccetto l'agricoltura del Presidente e la sanità, l'assistenza e il lavoro tutto assieme alla Stoker è stato un errore strategico. Per me la giunta si poteva fare a 10 e 11, i problemi dei costi della politica sono altri, non sono i costi degli assessori che devono poter decidere in maniera seria e in maniera qualificata. Secondo me i costi della politica sono altri, i vitalizi, tutte le molteplicità delle società, perciò io ritengo che questa giunta deve rivedere questa cosa, io spero che riveda perché avere una macchina che funziona vuol dire avere una squadra capace di rispondere in tempi più brevi possibili ai lavoratori e ai lavoratrici, ma in generale ai cittadini. È bene ricordare che la giunta Dornwalder del 2008 era composta da 9 assessori, e quella del 2003 addirittura da 11 membri. Compaccer invece appena insediato ha deciso di optare per 8, anche se le trattative con il PD avevano lasciato uno spiraglio aperto per l'ingresso del secondo assessore italiano, previa modifica dello statuto. Ad essere invece contrario alla possibilità di portare l'esecutivo a 9 membri è il Presidente di Asso Imprenditori Stefan Pan. Il dialogo è costante, tiene a precisare Pan, e al contrario nota una prontezza di risposta da parte dei vari assessorati, molto alta. A sperare invece si possa tornare ad una giunta più ampia, Michele Bonerba della CISL. Voglio fare un esempio per capire. Noi sono due volte che abbiamo programmato un incontro con l'assessora al lavoro Marta Stoccher, e due volte che viene rinviato perché lei ha impegni nella sanità. Questa norma sugli ammortizzatori sociali è molto importante per la gente di questo territorio, perché si terebbe la possibilità di migliorare sia le politiche attive che quelle passive. Tutti questi rinvii semplicemente rinvieranno a loro volta la possibilità di discutere in giunta di questa importante legge.